e poi la frazione di grello teatro della suggestiva festa del fuoco durante la notte di san giovanni tra il 23 e il 24 giugno che vede i tre rioni impegnati in una folle corsa intorno alle mura castellane trainando rudimentali slitte caricate di imponenti cumuli di paglia e legna che vengono bruciati in un'atmosfera dal fascino ancestrale ecco perché non volevamo grandi intusioni, noi eravamo capaci di fare il basso che cosa si condone con la caratteristica che attenta con la distinzione il cartero unico il cartero unico il cartero unico il cartero unico è Grazie a tutti.